Entrando a vedere la torre di Hassan, qui a Rabat, andiamo. No ragazzi, siamo a Rabat, la capitale amministrativa del Marocco, capitale appunto di fatto, qui siamo al parco dove c'è la torre di Hassan, che è questa qui. Adesso vediamo il resto della città, insieme anche qui finiamo di vedere torre di Hassan e compagni, ciao. Torre di Hassan, sempre a lui. Siamo sempre in piazza. Marocco, chiaramente si evince dalle bandiere. Adesso qui siamo alla porta di Oudayas. Eccola là. Questa è Casbah degli Oudayda. Andiamo avanti a visitarlo. Volevo accedere ma purtroppo non si può accedere, chiuso. Per quello che vediamo poi qui a seguire, adesso vado a zoom. Questa è la spiaggia di Rabat. Bella estesa. Bella grande. Andiamo avanti. Andiamo qui le scale. E' lì che vediamo la torre di Hassan, là in fondo. Buongiorno. Praticamente siamo alle spalle e qui c'è la zona delle casette colorate, tutte di azzurro. Questa è la zona delle casette. Questa è finita. Questa è la zona delle casette colorate di azzurro. Questa è l'uscita. Mangiamo il couscous qua nell'appartamento a Rabat. Questa è la zona delle casette. Questa è la zona delle casette. Questa è la cattedrale di Saint-Pierre. Questa è la stazione di Rabat. Questa è la gara de ville. Questa è la zona delle casette. 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 Grazie.